Ciao, io sono Giulia Scarpaleggia e sono conosciuta online come Jules Kitchen. Ciao, sono Aduavilla, molti mi conoscono come Globetrotter Gourmet sui social. Parlo di vino fondamentalmente, lo faccio da tanti anni, l'ho fatto in tv per circa 16 anni, scrivo su diversi in magazine, per lo più lifestyle come F e Natural Style. Ho aperto il blog Jules Kitchen quasi dieci anni fa ed è un blog di ricette tradizionali casalinghe di cucina toscana. Il blog è scritto in italiano e in inglese. Oltre al blog, faccio corsi di cucina toscana con il mio compagno Tommaso e scrivo libri di cucina, sempre toscana. Ho stato blogging since 2012. La reason I started blogging is because I came to Florence and was looking for interesting things to do and see and experience and I want to share that with everybody who enjoys coming to Italy and wants that perspective as well. Una delle aree di produzione che più mi affascinano e mi intrigano è sicuramente quella della produzione del Brunello di Montalcino perché all'interno di questa zona già da nord a sud, ovest, dipende da dove nasce questo particolare e unico vino, abbiamo delle grandi sfumature che fanno unica questa zona. La mia area preferita in Tuscany è Val di Orcia e le città di Montepulciano, Pienza, Bagno Vignoni. Non solo è la città estremamente buona, ha i favoriti tuscani tipici, fettati, cinghiali e tutto questo divertente. Ma anche hai un buon vino, c'è bellissime cose da vedere, c'è un po' di sping, quindi è un po' di tutto. Il mio piatto di cucina toscana preferito è sicuramente la pappa al pomodoro perché credo sia un piatto che rappresenta perfettamente come la cucina toscana alla fine non esista perché la cucina di Firenze è diversa dalla cucina di Siena, diversa dalla cucina di Livorno. Quindi la pappa al pomodoro che preferisco è quella che faccio a casa, in Val d'Elsa, tra Siena e Firenze. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti.